Ciao ragazzi, bentornate al mio canale e benvenute per quelle che vedranno il video per la prima volta. Questo piccolo video, che spero sia piccolo, molto contenuto, sarà un video di spacchettamenti di Michele Nails, che per la prima volta li provo, e poi della mia amatissima Crystal Nail. Quest'ultima avrei dovuto parlarvi più in avanti perché devono ancora arrivarmi delle cose, soprattutto delle novità, perché quando sono stata al corso non ce ne erano tutte e quindi devo ripassare a prenderli. Avrei voluto fare tutto della Crystal, un video, però ho detto, boh, visto che ce l'ho, faccio un misto, un misto, ecco, che così magari se qualcuno vuole prendere spunto, riesce già a prendere spunto. Iniziamo della Crystal perché sono cose che sono pronte e sono poche, e poi magari ci fermiamo un po' di più su Michele Nails, che per la prima volta li provo, e devo dire che come arrivo del pacco, dell'omaglino, dei prodotti, ho una bella impressione. E quindi iniziamo. Allora, ecco, sistemato della Crystal. Ho preso il mio amatissimo, e veramente dico amatissimo, anche perché se ne ho tantissimi in casa, di siglilanti, perché sapete che dopo iniziamo a provare finché non ci troviamo bene con uno. Però il Top Cool per me rimane il top, il siglilante, senza dispersione in assoluto. Lo adoro. È riuscita anche, non so se l'anno scorso, se non è sbaglio, la versione sempre Top Cool 4 Dark, per i colori oscuri, e questi due ragazzi ve li consiglio, ve li consiglio, ve li consiglio. Infatti questo sempre lo prendo la vocetta grande perché va a go, ne uso sempre altri, però quando voglio fare lavori che tengo più a cuore, ecco, e voglio andare sul sicuro, magari che ho un po' di premura, vado qua con questo e so che non ho nessun tipo di problema. E' il Top Cool, ecco. Poi, ho preso, avevo preso, questo è già uscito, perché è uscito, non so se uno o due mesi addietro, avevo preso la cover numero due, queste sono gli elpolici, che puoi andare direttamente anche tranquillamente sul semipermanente, avevo preso la colorazione due, che mi piace tantissimo, però devo dire, e l'una non l'avevo presa. E invece, ecco, ve la faccio vedere perché è già stessa, questa è la tua, che magari, se volete prendere spunti, eccola qua. Vi faccio vedere, vediamo se va a fuoco, troppa luce, sì. Eccola qua. Eccola. Questa è la cover crystal 2. Poi, c'è la 1, che infatti sta andando tantissimo, tantissimo, tantissimo. Li uso come monocolore, e veramente si trovano bene, e piace tanto. Anche quelle che magari sono un po' noiosi ad essi colori, con queste qua, con queste cover, riuscite a sistemarle, ad accontentarle. Ve le consiglio vivamente. Poi, erano uscite anche il chromatic crystal lac, che è sempre un gel polish, e non li avevo preso, perché, buh, non mi facevano gola. Invece, dopo, vedendo dei lavori con le master, soprattutto un lavoro che ha fatto l'America Peccio, con il nero, questa qua, la rose gold, mi sono innamorata. Non vi posso dire cos'è, perché veramente, guardate qua. Adesso ve la faccio vedere anche stessa. E infatti, mi sono pentita di non averle preso prima. Peccato, era uscita anche la silver, però era finita. E quindi, la prenderò in un secondo momento. Eccola qua. Col nero, se andate a vedere il lavoro delle master di crystal nail, andate a vedere un lavoro che ha fatto l'America Peccio col nero, e veramente, guarda, sono rimasta strafatta. Poi, anche qua, non l'avevo preso l'altra volta, la volta scorsa, quando erano uscita, perché avevo preso solo la pink. E invece, parlando con la mia collega, amatissima collega Chiara Nails, che vi consiglio di seguirla, che è molto brava, e mi ha detto, ma non hai preso la silver? Guarda che è una cosa favolosa. Perché ce l'avevo in un'altra azienda. Questi sono i bubblegum. I bubblegum sono quelli che chiamiamo spider gel. Però questi della crystal, secondo me, hanno una marcia in più. Guardate soltanto, filano tantissimo. E secondo me, a differenza, tipo, passione, che ce l'avevo di passione, quasi tutti, non li uso, li uso in lavori così, un po' così, perché non è che mi piacciono tantissimo. Ci sono tante colorazioni, e vi consiglio di dare un'occhiata. Poi, anche questo non è una novità, però mi piaceva talmente tanto, perché è simile a un colore che ho. E adesso, con queste stagioni che sta arrivando, infatti, ho già iniziato ad applicarli. Subito sono arrivati, e subito hanno iniziato a farli. Ok, questo è il Royal 149. Guardate qua. È un po' più, ma un po' più di melanzana. Voi lo vedete sul rosso scuro, scuro, però è un po', un qualcosa di melanzana. Ma se lo prendete, non ve ne pentirete. Royal 149, ve lo faccio vedere stesso. No, scusate, questo è il rosso rosso. Il melanzana è quella novità che è appena uscita, che ve lo faccio vedere adesso. Scusate, questo è proprio il rosso rosso, che è della telecamera, non riuscivo a inquadrarli bene, non riuscivo a vederli bene. E questa è la novità, è il Royal 164, che ha un kit di melanzana. Infatti, anche questo sta andando tantissimo. È piaciuto veramente tanto. Ecco qua. Io adoro i colori gel della Crystal. So che hanno un prezzo, infatti prendo quelli che mi fanno perdere la testa. Non è che vado a prenderli tutti. Poi è uscito, questa è una novità appena uscita, il Flessy French. Praticamente, quando abbiamo quel problema, che avevo anch'io, per fare il semi permanente, il Flessy con il semi permanente. Con questo avete risolto, vediamo se riesco, è un bianco, 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 bianco. Ieri l'ho usato, infatti, per fare un freccio nei piedi. E devo dire che sono stata soddisfatta. Di mezzo a tantissimi lavori, con una sola passata sei a posto. E veramente lo consiglio. Questi sono stati i produttini che ho preso della Crystal. Settimana prossima farò un altro video, perché vado a prenderli, e quindi così. Adesso passiamo a Michele Nails, che è stata una bella scoperta. Era un po'... Ecco, non ero fiduciosa, però vedendo sempre la mia amica, la mia collega, Chiara Nails, che l'adoro, infatti ogni tanto è bravissima, però ogni tanto le chiedo, ci chiediamo vicenda dietro le quinte. Amore, tesoro, cosa hai preso? Cosa è arrivato? Ogni tanto mi manderà in rubina, soprattutto con quel bellissimo, fighissimo aerografo che ho preso, però adesso non posso. Questo lo immagino che è un colore e sono rimasto molto sorpreso, perché pochissime tiende mandano dei colori come Maggio. Adesso andiamo ad aprirlo, arrivano così. Devo dire che veramente anche l'impacchettatura è molto bravi. Arriva così, adesso andiamo ad aprirli. Eccolo qua. Siamo andati a stenderlo, magari se non combino un guaio, con questo portapenello. Voi lo vedete un po' più sul rosso, però è un corallo. Andiamo a vedere come si stende. Ho già preparato, ho passissata la tip. Prendiamo un po' più di colore. Eccolo qua. Wow! Bello, 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 bello. Molto bello. Un colore che per questa stagione, secondo me, andrà tantissimo. Anche se non ha problemi di stagione. Guardate qua. Molto soddisfatta anche della stessura di questi colori. Questo è il B-053. Poi lo vedete più rosso, sul rosso, però è un corallo. Ragazzi, si stende da Dio. Andiamo in lampada. Ecco qua, ragazzi, ho fatto la seconda stessura. stessura. E l'ho anche sigillato. In questo caso ho sigillato con un sigillante non dell'azienda perché non ce l'ho. E questo è un bellissimo, bellissimo omaggio e ringrazio molto, molto l'azienda. Guardate qua. Stessura da Dio favolosa. Eccola qua. Troverò un posticino perché se vi interessa il numero è B-053. Perché io di solito avendo quelli di passione di altre aziende che sono sempre in cuore di questi baratolini mi stanno in queste scatole. Quello lì che è un po' grandino e devo dire che è bello pieno. Qua non mi stanno. Però li troverò un posticino se li inizio a prendere da loro. Poi ho preso questi sticker di foglie perché per le stagioni che ci arriva si usano tantissimo. Magari non abbiamo tempo di stare a disegnare e vogliamo qualcosa di semplice carino di effetto e possiamo andare con questi sticker qua. Guardateli qua che belli. Infatti anche la crystal ne è uscita con questi sticker. e devo prenderli perché so che intanto non mi arriveranno alla fine dell'ottunno e dell'inverno. Poi ho preso questi salvadite per quando magari usi delle polvere o delle stamping e se non hai c'è un prodotto che fai e che è in liquido che ti fa lo stesso effetto. Questi sono già pronti e quindi visto che non costavano tantissimo li ho preso. Poi un'altra cosa che vi dico che li ho presi in effetto ho fatto l'ordine perché io sono un po' fuori di testa ho fatto l'ordine domenica sarà stata a luna del mattino perché ho visto che fino a lunedì c'era il 20% di sconto allora ho approfittato sempre seguendo la mia amatissima collega che devo dirle che questa è stata una dritta veramente fantastica e fenomenale ho preso questi pad da loro infatti ne ho presi ho approfittato io ho preso subito due confezioni in cotone non si sfaldano non molano perché allora avevo finito quelli di passione che se prendete quelli da 500 vi trovate benino se prendete un pacco da 1000 ragazzi no ho preso poi un pacco da 1000 da BSN Beauty's Space Nail ragazzi dimenticatele se vi posso consigliare perché il senso dei miei video è proprio questo non soltanto dei miei video del mio canale è dare consigli ma prima di consigli darvi dei pareri e delle dritte che veramente dopo non andiamo a buttare via soldi questi qua non valgono non valgono guardate guardate e poi questo effetto ce li troviamo sulle unghie dobbiamo fare un colore qua un sigillante guardate il problema che abbiamo non vi consiglio in assoluto ho preso un pacco da 1000 li finirò perché so che li finirò però non vi li consiglio invece questi guardate qua devo dire veramente il top poi ho voluto prendere perché anche la crystal ne è uscita sempre questa comparazione però infatti per quello soprattutto per questo ho fatto l'ordine perché sono uscite e io li uso tanto i fogli li uso tanto e questi sono in versione marmorizzato e mi piacevano e allora ho voluto prenderli intanto io vi ho preparato una tip perché mi piace andare sotto con un colore in alcuni effetti andare sotto con un colore che vi lascio meglio infatti qua ho usato un dualuna che anche questo è semi permanente all'inizio quando è uscita dualuna ne ho preso una decina sono belli però hanno una scadenza brevissima anche se devo dire che ce li ho da un po' e non mi hanno dato mai problemi però non vado a spendere e poi li avevo quando all'inizio che sono appena usciti avevano fatto un po' di promozioni e veramente li ho pagato una monata però adesso non vado a spendere soldi nel loro semi permanente preferisco altre aziende ecco e allora non li prendo più qua come vuole un effetto che se magari si fanno delle grinze e si vedono magari rimangono dei buchetti no? visto che è un po' brillantinato questo blu allora mi piace l'effetto e per quello ho messo come base questo blu io uso per andare ad aderire il gel foil di passione unghie che mi trovo molto bene vado ad applicarlo andare in lampada 30 secondi e dopo vi faccio la dimostrazione di come applicarlo eccoci qua una volta applicato il gel foil e lasciato catalizzare 30 secondi in lampada vado a prendere il mio foil cerco il senso che voglio ho deciso di metterlo così lo applico potete fare con le ditte potete fare magari con un pennellino in silicone ecco qua vado un po' su perché ogni tanto vado fuori in quadratura ecco qua vedete che vi sono fatta un po' di grinze questo è un effetto che per quello ho messo sotto come base il blu e vado a staccare guardate che non rimane niente e questo è l'effetto poi se vogliamo avvelirlo possiamo andare con un po' di brillantini o con un po' di bianco a farle magari ancora qualche righetta io adesso lo lascio così quando una cosa che vi do e vi dico è un consiglio perché quello l'ho imparato un corso infatti un corso che ho fatto di Salon 3 sempre con la crystal praticamente quando fate questo lavoro prima se andate sotto sopra il colore andate con acid prime col binder ecco io adesso in questo caso ho il binder di passione unghie andate col binder poi applicate il foil una volta applicato il foil tornate a passare col binder ecco anche con il water decals perché quello anche con le polvere mirror perché questo ti dà un'ulteriore aderenza e aiuta anche fa sì che dure ancora di più eccolo qua molto molto bellino l'effetto queste sono le colorazioni che loro hanno fatto infatti prenderò anche quelli della crista perché sono altre colorazioni mi sono piaciute tantissimo a me questo effetto piace un sacco poi sempre parlando di polvere anche qua mi ho lasciato influenzare tantissimo e devo dire che un bel una bella influenza ecco questa è la polvere mirror sempre di Michele Nails ed è una cosa di fantastica allora io vi ho già preparato la tip con un nero in questo caso ho usato il supreme erano dei semi permanente che usavo una volta adesso li prendo praticamente per fare questi lavori per preparare le tip però non li prendo più ecco anche se mi sono trovata bene però preferisco altre aziende quindi non li ho presi più io ho sigillato no penso che devo ancora andare a sigillare un attimo ecco una volta sigillato prendiamo un po' di prodotto già loro ti mandano anche il pennellino e andiamo a strofinare ne basta veramente poca si vede si io prelevo veramente all'occorrenza quanto mi serve non è che vado a riempirmi subito il pennellino ragazzi per non andare a sprecare tanta polverina wow 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 che bellino infatti io non vado a mettere il pennellino dove magari tutta la polvere vado proprio anche sul tapino ogni tanto ce n'è ecco e vado a prelevare al bisognio wow che bella guardate la bellezza anche se ho preso quelle uscite da passione le compact però questa veramente anche questa guardate qua guardatela wow andiamo prima a spolverare il residuo e poi andiamo a sigillare eccola qua ragazzi una volta polimerizzata guardate l'effetto la bellezza di questa polverina molto molto gradita poi ecco qua anche questo l'ho sigillato penso che con altre poi farò vi farò vedere l'effetto perché io sono dell'idea anche una volta ce l'ho insegnato si vabbè mettere un water decals perché adesso in tanti tanti lo fanno anche le belle grande master un foil però sono cose che hanno magari bisogno di un qualcosino in più ecco di un tocco personale di uno che gli dà quel qualcosa in più poi ho preso il loro acrigel però ho preso sia il frozen che mi incuriosivano però ecco c'è un però è l'unicorn non so sinceramente avevo sentito che come lavorabilità non era non era il massimo infatti confermo l'ho preso perché mi incuriosivano infatti ho preso 30 ml non sono brutti per carità perché non sono brutti però penso che questo effetto lo possiamo creare già con altre cose perché sinceramente non mi fa impazzire questo è il frozen non mi fa impazzire la lavorabilità di questo prodotto infatti adesso vi faccio vedere all'opera unicone e così vi rendete conto di cosa vi parlo eccolo qua però belli devo dire che l'effetto mi piace tanto si presentano così infatti bisogna aprirle e andare a togliere questa pellicola di sicurezza qua infatti mi piace molto io mi sono preparato una tip andiamo a prendere vanno in lampada led 90 secondi o in uv 120 io li prendo un po' vado a metterlo direttamente sulla tip ecco qua magari spingiamo che non ne esca ancora io in questo caso sto usando la tip la soluzione il liquido soluzione di passione unghie e anche il pennello acrygel uno di passione unghie io come acrygel uso un'altra sienda che non molerò mai più infatti ho molato passione unghie guardate qua guardate qua cosa vi dico il pennello deve essere ragazzi bagnato ma bagnato 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 perché ciuccia tanto liquido e subito vi sentite appiccicoso il pennello ecco qua guardate qua praticamente sapete che bisogna andare a scaricare il liquido nel pad in questo infatti praticamente neanche lo scarichi perché veramente guardate qua un po' che non lo bagno che lo sto utilizzando mi si inizia ad appiccicare non mi fanno impazzire però non penso sia perché il prodotto non sia buono è proprio che questi acrygel con questi con questo all'interno con questo tipo di pallettini di brillantini perché si possono creare lo avevo già creato una volta e infatti non mi c'ero trovata e per quello ho detto buon visto che ci sono li prendo già pronti però conferma la teoria che non sono molto per fortuna non sono molto lavorabili ecco per fortuna ho preso questo pennello che appena uso ari lo uso per un prodotto che non conosco tipo adesso che mi sono arrivate nuovi eccolo qua però devo dire che mi piacciono molto ecco lì e vado in lampada 90 secondi infatti adesso vi faccio vedere il pennello nelle condizioni che rimane guardate guardate la condizione del pennello per fortuna io usando ecco che vi dico subito io uso ragazzi questi acrigel una volta che ho iniziato ad usare loro ce li ho tutti quanti perché prima usavo ho iniziato con i vasetti di passione unghie però furavano da morire poi sono passata quelli a tubetto per una volta provati questi non li ho mai più abbandonati e loro ti vendono sia le slip solution che il brush cleaner che praticamente è un pulitore per i pennelli infatti vediamo se con questa soluzione guardate qua madonna forse qualsi eccolo eccolo se avete problema vi consiglio di prendere il brush cleaner sempre della fam che vi aiuterà tantissimo quando avete questi problemi con i pennelli della grigiel vi faccio vedere tutte e due le colorazioni eccole qua ecco devo andare a siglarli questo era tutto spero vi sia piaciuto dovrei farvi un video di un refi di una copertura di qualcosa però ragazzi perdonatemi so che le ho promessi però sono non incassinata di più perfino le mie mani non pensate guardate qua tipo una copertura così alla buona perché non ho tempo veramente fortunatamente sto lavorando tantissimo che mi sembra che siamo a dicembre però questo mi impide di veramente di fare altro perché tra il lavoro tra le mie cose le cose in casa poi ho iniziato un percorso di dimagrimento che mi tocca stare sempre a cucinare o fare dei tappeti o degli esercizi la sera quando ce lo libero l'impiego a quello infatti adesso vi molo e vado iniziare a cucinare se volete la ricetta per domani avrei 90 grammi di riso venero integrale nero buonissimo con 200 grammi di pomodorini freschi e 80 grammi di tonno e quello è il mio pranzo di domani ecco se vi può interessare la ricetta che c'ho per domani e stasera per fortuna mi tocca la bistecca 170 grammi di bistecca di manzo che ce l'ho soltanto una volta alla settimana però devo dire che il risultato è l'inizio a vedere se volete anche qualche dritta su quello anche se vi consiglio sempre andare da un nutricionista a me i dietologi non piacciono da un nutricionista che vi può seguire perché ogni dieta è a sé ogni persona è a sé e io con questa devo dire che veramente in meno di un mese ho perso già 3 kg sono sempre che mangio infatti anche lì sono un po' meravigliata perché sono sempre che mangio e ormai ho perso la bellezza di 3 kg buon io vi invio un bacione spero che le cose che vi ho mostrato siano utili soprattutto quando vi dico qualcosa che prendiate spunti che così non andate a buttare via soldi e non fate acquisti errati anche se io continuo a farli perché anch'io guardo i video di altri ragazzi appunto per quello per non andare a buttare via soldi per niente queste sono state le mie i miei due paghetini di questa settimana della settimana scorsa con la Cristian e niente ci vediamo in un altro video vi ringrazio tanto veramente per seguirmi se vi è piaciuto il video lasciatemi un pollicione all'insù anche con questi detchini e niente vi invito a seguirmi ciao ragazze buona serata buona serata Grazie a tutti.